Allora, dottor Savoca, stavamo aspettando lei. Allora, dottore, signore, io dico come voglio. Amico mio, cosa vuoi dire nonostante la collo-invalescenza? Ok, è alla faccia di tutti quelli che ci vogliono del male. Noi mangiamo lo stesso, ok? E tutto il resto? E noi. Ecco qua, signora, lei chi è? Si presenti? Che bella cosa, complimenti, l'avevamo capito.